Per la prima volta abbiamo questa esperienza del doppio binario. A gennaio era già stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Imperia al Tribunale un sequestro a seguito dell'arresto dei Rinaldi per spaccio di sostanze stupefacenti. Segue a questo sequestro, dove anche in quell'occasione gli accettamenti erano stati condotti dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, segue questa misura di prevenzione patrimoniale che è indirizzata nei confronti dei Rinaldi ritenuti soggetti pericolosi socialmente, cioè soggetti che potrebbero commettere reati in seguito. Quindi la probabilità di commissione reati da parte dei Rinaldi. Quindi due misure diverse. Una fa seguito a un reato, quindi una misura repressiva. Questa è una misura nettamente preventiva. È la prima volta che viene applicata su richiesta del questore di Imperia una misura di prevenzione patrimoniale. Ed è la prima volta che abbiamo un doppio binario. Quindi mi evidenziavo prima il binario ovviamente penale. è quella ovviamente della misura di prevenzione che ripeto ancora una volta e sottolineo va incontro e soprattutto va contro la pericolosità dei Rinaldi in questa circostanza. Cioè soggetti ritenuti in grado di commettere ulteriori reati. Ed è una misura fondamentale. Questo ricordiamo il codice antimafia 2011 ha consentito questa realtà anche nei confronti di applicare questa misura anche nei confronti dei criminali comuni. Mentre prima era una misura che poteva essere applicata solo nei confronti di coloro che appartenevano alle organizzazioni criminali organizzate, quindi alla criminalità organizzata. Ed è una misura che colpisce il patrimonio. È uno strumento efficace in quanto colpisce il patrimonio dei criminali comuni piuttosto che di coloro che appartengono alla criminalità organizzata. E il patrimonio è la ragione d'essere, è la ragione di vita di questi sodalizi criminali. Colpendo il patrimonio colpiamo veramente il sodalizio alle radici. Il valore dei beni è stimato sull'800.000 euro, 900.000 euro. Sono ancora valori comunque minimali che dovremmo poi verificare. Si tratta di beni che la famiglia Rinaldi ha nel tempo messo da parte cercando di dissimularne anche la verità e imputandola tutta quanta alla famiglia, alla madre sostanzialmente dalla famiglia, allo scopo anche di tutelarla dalle misure di prevenzione che poi sarebbero state eventualmente potute applicare nei loro confronti. Diciamo che non poteva essere diversamente, nel senso che i Rinaldi avevano veramente i redditi minimi quasi alla limita sussistenza e i beni comunque un valore economico lo avevano. Questo è un sistema che ci consente di operare nei confronti delle criminalità che non è soltanto mafiosa ma è anche comune per portare via i beni che sono illegittimamente confluiti sul mercato. Lo scopo di tutelare i cittadini è il mercato legale da forme di inquinamento e da criminalità che non possono prendere piede nel territorio.